Siamo alle solite, le solite mezze verità dei gobbi, degli scoloriti, dei finti torinesi, perché i veri torinesi ti fanno toro, il grande toro, le solite mezze verità, ovvero bugie degli juventini. Stavolta parla, arriva bene, arriva bene, vi ho messo tutto già in copertina, perché lui si chiede che dovevo dire che spendiamo troppo, dovevo andare in tv a dire che spendiamo troppo? No, dovevi andare in tv a dire che avete falsificato i bilanci, questo dovevi fare, e non l'hai fatto, gobbo. Benvenuti monarchici assoluti, benvenuti. Allora, prima di parlare di tutto, iscrivetevi al canale, cliccate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella e selezionate tutte, in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video, di quando faccio i live, live, che faremo oggi alle 18, vi aspetto, mi raccomando, si parla di Inter e di tutto il resto. Iscrivetevi al canale, fatevi per idee dell'algoritmo di YouTube. Allora, andiamo a vedere e a leggere che cosa ha detto questo gobbaccio. Arriva bene, la Juve voleva vincere la Champions, doveva andare in tv e dire che avevamo speso troppo? La pandemia ha aumentato i problemi e i contratti onerosi e ha creato una situazione difficile. In una lunga intervista al Corriere della Sera arriva bene, ripercorre le sue parentesi alla Juventus. C'è premetto che nel periodo in questione io ero nel CDA in qualità di consigliere, senza dele che in un momento a causa del Covid ci si riuniva in videoconferenza. Allora la strategia della società mirava una forte espansione, iniziata in precedente con l'acquisto di Ronaldo e l'obiettivo era vincere la Champions sedentale in modo solido e duraturo dalle grandi d'Europa. Di conseguenza sono stati fatti altri acquisti, poi il Covid ha complicato le cose. Arriva bene, ammette che il club ha speso più di quanto poteva permettersi. Ho iniziato il mio lavoro da dirigente il primo luglio 2021, trovando una situazione piuttosto pesante a causa degli investimenti precedenti, come sempre nello scaricabarile è colpa degli altri. Ovviamente la pandemia aveva aumentato i problemi, i costi di contratti molto onerosi avevano creato una situazione piuttosto difficile. Che cosa dovevo fare? Andare in TV e dire abbiamo sbagliato a spendere troppo? Vi immaginate la reazione dei tifosi e dei media? Ecco, se ci fossero davvero i media che avevate speso troppo lo dovevano già scrivere, perché ti svelo una cosa, caro Arriva Bene, i bilanci di una società quotata in borsa come la Juventus, ahimè, per voi, sono pubblici. Quindi che avevate speso troppo lo sapevano tutti, ma non l'ha detto nessuno. Voi, che cosa avete fatto? Avete falsificato i bilanci, avete cambiato le fatture, le correggevate a penna. Avete circuito i giocatori dicendo dite che rinunciate agli stipendi, poi noi ve li pagheremo invece il prossimo anno. Avete truccato i bilanci, non si può fare, si va in galera per queste robe qua. Se lo fa in America buttano la chiave, ok? E ve la siete cavata con dieci schifosi punti di penalità. Giustizia sportiva, perché giustizia è ordinaria. Se esiste davvero una giustizia in Italia, cosa di cui comunque dubito, verrete puniti pesantemente, perché fare questo quando sei quotata in borsa, l'azienda viene distrutta se tu trucchi i bilanci un'azienda quotata in borsa. Ma vedremo come andrà a finire, ovviamente gli aggiornamenti ci saranno. Fra l'altro, dovevi andare in tv e dire non solo che avete speso troppo e che avevate falsificato i bilanci, ma lo spendere troppo è stato fatto perché siete incompetenti, perché davate botte di 8,9 milioni di euro a bidoni come Ramsey, ok? Perché compravate giocatori osceni pagandoli l'ira di Dio, vedi Locatelli, 40 milioni che non vale 30 euro, capito? Quindi è colpa vostra, è colpa vostra dell'incompetenza e dovevi essere chiaro e dovevi dire che avevi truccato i bilanci. Questo dovevi fare. Comunque, continuiamo con le sue dichiarazioni. Cioè, in silenzio mi sono rimboccato le maniche e ho iniziato a lavorare. Quell'anno, grazie a alcuni eventi dell'acquisto di soli due giocatori, Locatelli e Kenno facevano un mercato morigerato, subendo anche critiche. Morigerato. Locatelli, 40 milioni di cartellino e Kenno, 30? Morigerato. Ma con quale faccia puoi dire una cosa del genere e rimanere serio? Locatelli, 40 milioni che in 30 ha morigerato, 30 che fra l'altro l'avevi venduto un anno prima, la metà e l'hai acquistato di nuovo al doppio per sostituire un altro che vi ha sfanculato l'ultimo giorno di mercato. Siete ridicoli. Siete ridicoli. Comunque poi finisce, dicendo le cose vanno avanti, continuo a credere nella giustizia, anche in quella sportiva, vedremo cosa dirà la Corte Europea. Con Andrea Agnelli ci sentiamo ancora. Ma cosa deve dire la Corte Europea? La Corte Europea può dire, ma come permettete a certe squadre di esistere ancora, dopo tutto quello che avete rubato? Che in ogni crimine ci siete sempre voi. Noi, quando il nostro presidente Zanga ha fatto debiti, siamo stati massacrati. voi, per non fare i debiti e non andare troppo fuori, avete truccato il bilancio e ve la siete cavati con dieci punti di penalizzazione, una roba. Neanche i signori della guerra in Nigeria hanno il vostro potere. C'è una cosa pazzesca, hai capito? Che tu, fra l'altro, non puoi fare quello caduto dalle nuvole, amico mio. Perché qua ci sono le intercettazioni che ti inchiodano. Capito? Ti inchiodano. Allora, guardiamole. Andiamo a ricordarci. Arriva bene, intercettato. Siamo fuori dai parametri UEFA. Plus Valenza è un problema serio. Quando lui parlava, sto signor Maurizio arriva bene, parlava a telefono con Cherubini, diceva ci sono cose che mi fanno accapponare un po' la pelle. Ti dirò, perché poi ci saranno anche delle decisioni da prendere. Una cosa riguarda i parametri UEFA, perché dei calcoli che abbiamo fatto noi siamo assolutamente fuori dai parametri. Però può essere che ci siamo persi qualcosa. Certo, vi siete persi ancora agli alti debiti e per coprirli avete falsificato i bilanci. Questo li sei perso. Poi vabbè, gli rispose quell'altro cerrato direttore finanziario, un altro, capito, che ha truccato l'impossibile alla società rispetto al programma di UEFA per l'iscrizione di Champions 2022-2023. Ma con quelli attuali non potrebbe iscriversi all'edizione 23-24, vi rendete conto? E questi, io vi ricordo, vi ricordo, adesso rimetto lo schermo intero, vi ricordo che una società, una combriccola di tifosi di questa associazione a delinquere da cent'anni che è la Juventus, ha fatto l'esposto a noi dell'Inter, capito, alla procura, perché noi non potevamo iscriversi al campionato, secondo loro. L'esposto è finita a niente, perché noi l'iscrizione la potevamo fare, i nostri debiti erano tutte a luce del sole. loro non potevano iscriversi, per stessa ammissione di Cerrato, che era quello che teneva i conti, c'è l'intercettazione che lo inchioda, voi, Gobbi, non potevate iscrivervi al campionato, non noi, voi, non potevate fare né coppe né campionato né un cazzo, capito? e lui ancora andava sulle brusvalenze, devo dire che è un problema del sistema calcio complessivo, non solo di Juve, io sono rimasto, devo dire, all'Ibido, la federazione parla di cambiamenti solo ora dopo il vostro intervento, mi chiedo dove fossero prima, no amico mio, no, perché come sempre lo juventino, c'ha questa politica, un ladro più un ladro fa zero ladri, no, a voi hanno beccato con le mani nel sacco, a voi hanno beccato con le mani nella marmellata, a voi, che poi si possano ridiscutere le regole, quello è un altro conto, ma voi siete quelli che detenevate il potere e usavate le altre società come satellite per farvi le brusvalenze a cazzi vostri, capito? Che c'era quello paradisi che diceva io il mercato lo faccio da dieci anni a squadre come Atalanta, Sassuolo, Genova, capito? Si vantava anche e come sempre siete stati impuniti, vergogna. Quindi se tu arriva bene e fossi stato un uomo retto, avresti detto quello che dicevi nelle intercettazioni a telefono, siamo fuori dai parametri, perché non andavi a dirlo? Non abbiamo speso troppo e non abbiamo speso troppo non basta e non hai detto. Ma a quello dovevi aggiungere abbiamo speso troppo perché siamo incompetenti o la gestione prima era incompetente e abbiamo falsificato i bilanci, siamo fuori dai parametri, questo dovevi dire. e ovviamente per concludere quello che gli ha fatto l'intervista del Corriere della Sera mica ieri ha poste le domande che io dico in questo video, le obiezioni che io contesto in questo video, non ha detto niente, come sempre ho lasciato parlare tranquillamente. benissimo. Benissimo. grazie a tutti. Grazie a tutti. Imperdibile. Delle 18 alle 20 siamo live qua su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, fatelo per idee dell'algoritmo di YouTube. Detto questo, il nostro solido saluto in latino, vide te mox. Forza Inter. Forza Inter.